Grazie 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 Bacca! Bacca! Stragun! 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 Suo figlio! Stragun! 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 Vai! Proci! Divido di te! Guarda la che ti faccio a cosa fa! Stragun! 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 Grazie. 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 No, scappa, scappa! Grazie. 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 Grazie! Grazie. Grazie. No, luci! Wow. Wow! Wow! Che ora! Che ora! Che ora! Grazie a tutti. No, qua arriva il mio appunto. Appunto, ho fatto, potremmo andare a una carriera in gioco qui. Grazie, grazie. Schiavo! Grazie. Grazie a tutti. 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 Certo, grazie. 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 Bisogna ripetare qualcosa. Certo, se si riesce... Ma... Infatto, ciao. Infatto. Allora, con due dei problemi, non poteva andare, in teoria, con questo, su un fattore. Cioè, io, 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 Dormo fuori, no, io, io. Sì, ora chiamiamo di cercare. Devo riportare adesso. Ah, no, si, devi appuntare adesso. Bene, Sì, Grazie a tutti. 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 a tutti.